Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Noi! 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 Noi. L'uva, ora. Norte. Ora. Il suo cammino è il suo cammino. Il suo cammino è il suo cammino. Grazie, Caini, il suo amico. Il suo cammino è un'acquietto. I'm not going to disclose I'm ordering you to disclose it This is not a question Why are you shouting acting like a child I'm not acting like a child I'm tired of your willful fucking ignorance You have a job to do and you are a good man I know you are I don't know why you're letting yourself be held hostage By this insane bitch Fucking base I'm going to go inside Base as fuck Are you disobeying his orders? Hey, he ordered you to do something Slacks, I love you I love you, Slacks Oh, fucking dick riders, look at this Does anyone do some group 6, by the way? Anyone group 6 vault run? Let Jason know Can you open it? I'm here 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 noちょっと埃っぽい場所です今 1回瞑想してくださいお願いしまーす ああねえっと俺がいるんで大丈夫です めっと願いしまーす yo hey no話はもうしないで Xでも見て Satuuto その話 è ora mi piacevole 意外 di te nobola Si è lo che Sì Sì Sobri c'è qui c'è tipo c'è qui c'è qui . . . . . . Sì, sì, sì. Oh What? There's no point in appealing it because I've obviously done some of it but I don't know what I've done What the fuck Hold on Oh, can you see it? Can you see it? Alright, you can see it? There you go Yeah, yeah, this is my, uh This is my cosplay, what do you, yeah, what do you think? Pretty good? It's wonderful I'm letting you know that if this, if they do some sort of vote, I will not acknowledge it What do we do then? What if the entire PD didn't acknowledge it? Who's gonna arrest us? Yeah What if they push trees in I mean the federal government would have to step in He can't push trees in We're the ones that push charges Right, but you understand how bad things will get if that goes on Oh 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 A presto Ciclare A presto Iscriverte Cicli Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. 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 Ima che ieri adesso Qu'è sì? Part of shift to you. So that is what, Dom? Exactly. 6pm Eastern. Let's have it stated. Okay. 6pm Eastern. He is coming back unsuspended as a PPO. Yeah. Without the FTO cert. Wait, no. Hold on. That's when Rebirth comes out. Clean sheet. I mean, as a PPO, obviously. That's literally when Final Fantasy VII Rebirth comes out. Dickbags. Are you serious? Don't do this to me. Final... Is it not? Final Fantasy VII Rebirth Release time. Dickbags. I wouldn't accept the auch Guy長. He's not Our friend, who came out. Guy長. 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 Guy is Guy is Guy. Guy. He is Rick. Guy. Ehhh Dio, mi parlo un po' che si puoi? Un primo, tu ti ho accettato alla, ma non si puoi. Dio, Dio, non si puoi. Dio, non si puoi. Dio, non si puoi. Non è vero! Non è vero! Non è vero! È vero!